25 anni di differenza tra loro, qualche ruga in più sotto al casco per l'uno, tanta voglia di imparare per l'altro. Per entrambi il desiderio di correre da sempre nel sangue più forte di ogni cosa. Roberto Ravaglia e Bruno Spengler, due generazioni diverse, si sono sfidati a colpi di performance e acceleratore, scambiandosi le gloriose vetture che li hanno portati al podio. Per Ravaglia infatti non si è trattato dell'auto con la quale vinse il campionato tedesco turismo nell'89, ma della M3 con la quale Spengler ha conquistato il titolo l'anno scorso, ma che per l'occasione è diventata della classica colorazione bianca con la banda rosso-blu, adornata poi con il suo numero di gara così come nella vittoria degli anni passati. Scambio di vettura anche per il canadese, ma con la stessa livrea della sua Sport, per l'emozione di salire sulla sua auto da corsa è diventata per l'occasione un po' retro. Allo start, compensare la differenza di prestazioni tra le due auto da competizione è stato indispensabile, il vantaggio in secondi dato alla leggendaria berlinetta degli anni 80 forse neanche tanto casuale, corrisponde infatti agli anni che separano le due vetture, 23 appunto. Scambio di vettura 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 Scambio di vettura